Aveva numerosi precedenti per furti, di solito proprio nelle farmacie sia ad Arezzo che a Perugia, adesso è finito in manette. Si tratta di un 29enne arrestato dagli agenti della volante della questura di Arezzo, IDF, le sue iniziali, cittadino rumeno senza fissa dimora, che secondo gli inquirenti è il responsabile dei furti commessi nei primi giorni dell'anno alla farmacia comunale 1 di Campo di Marte ad Arezzo. Gli agenti sono arrivati al 29enne dopo un'attente e pressante attività di indagine, raccogliendo prima fra tutte le informazioni utili in sede di denuncia e procedendo poi ad una meticolosa visione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, oltre ad un pressante monitoraggio nel centro cittadino. È stato il personale specializzato dell'Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla squadra mobile, a riuscire a focalizzare un identikit del ladro seriale, ovvero colui che ripetutamente nei giorni scorsi aveva agito ai danni della farmacia. L'identificazione è arrivata domenica, l'uomo si aggirava ad Arezzo dopo essere stato scarcerato il 13 dicembre dal carcere di Perugia dove si trovava per furti analoghi. Alla vista della volante il 29enne ha cercato di allontanarsi e far perdere le proprie tracce, ma gli agenti lo hanno raggiunto e riconosciuto. È stato dunque accompagnato presso il carcere Aretino di San Benedetto dove è in attesa di giudizio.